Questa mattina ci chiederemo, i mali dell'anima dell'uomo di oggi possono essere guariti o anche solo alleviati dalle idee di un filosofo vissuto duemila anni fa? È una domanda complessa alla quale cercheremo di rispondere insieme al nostro ospite, il professor Giovanni Reale, autore della filosofia di Seneca come terapia dei mali dell'anima, pubblicato da Bonpiani e giunto già alla terza edizione, quindi con un grande successo. Buongiorno professore, il professor Giovanni Reale è uno dei massimi studiosi del pensiero filosofico antico, dunque professor Reale io vorrei chiederle subito questo, chi era Seneca e come mai è diventato filosofo? Dunque Seneca innanzitutto è nato a Cordova da latini, quindi è latino, proprio di sangue latino, un grande retore, parlava benissimo e è diventato consigliere del grande Nerone che all'inizio è riuscito diciamo a domare e poi a poco poco è stato travolto. Dal punto di vista direi del mombo di oggi credo che sia una indicazione molto significativa questa, è diventato talmente ricco che qualcuno dice che non riusciva neanche più a calcolare l'ammontare delle sue ricchezze, perché? Perché non pagavano allora lo stipendio nel modo di oggi ma dava cose e cioè terreni eccetera eccetera e ciò nonostante si sentiva molto malato e infelice e addirittura ecco adesso leggo un suo pensiero che fa capire tutto. E si è salvato da questo male con la filosofia, quindi non da mestierante ma proprio da uno che fruisce la filosofia per guarire di un male. Più volte sono stato preso dalla voglia di troncarmi la vita, mi ha trattenuto la vecchiaia di mio padre amorevolissimo, ho pensato non come potessi io morire da forte ma come a lui potesse mancare la forza di sopportare la mia perdita, perciò mi imposi di vivere, talvolta infatti vivere è più difficile che morire. Ti dirò che cosa allora mi sia stato di conforto, ma prima voglio dirti che queste cose in cui trovavo sollievo hanno avuto per me l'efficace di una medicina. I buoni conforti si trasformano in medicine e qualunque cosa solleva l'anima giova anche al corpo. Gli studi sono stati per me la salvezza, è merito della filosofia se io mi sono alzato dal letto e se sono guarito. A lei sono debitore della vita anche se questo è il debito minore che ho con lei. Perché il debito minore? Perché non solo l'ha fatto vivere ma l'ha fatto vivere bene, che è la cosa più difficile. Vivere, siamo capaci tutti, vivere bene è un compito. È un compito che riguarda, che concerne tutta la vita. Direi anche un altro filosofo stoico, il grande imperatore romano Marco Aurelio diceva questo, qualche volta si è stanchi, non si ha voglia neanche di alzarsi e pur ti do questo consiglio, alzati perché devi continuare il mestiere della vita. Certo, che è il più difficile. Che è il più difficile. Dunque, professor Reale, qual era l'idea di saggezza di Seneca? Cioè qual era il vero saggio per lui? Stamattina ho fatto una domanda ai nostri ascoltatori, ho chiesto loro qual è per loro il vero saggio. Allora ci sono state risposte le più disparate, ma mi sembrava che la cosa importante fosse quella di vivere anche con una certa distanza dagli eventi del mondo, cosa che è, ahimè, difficilissima per noi comuni mortali. Diciamo che si può rispondere anche in maniera semplice, e cioè la vita per definizione comporta un caos, e quindi il saggio è colui che cerca di fare ordine nel disordine, e quindi trovare un equilibrio, il giusto equilibrio. E si capisce, per trovare il giusto equilibrio bisogna sapersi un pochino di staccare. Ma non era un saggio che ritenevo di aver raggiunto, e allora proprio per questo è saggio. Non sono ancora arrivato alla buona salute. E forse nemmeno ci arriverò. Preparo calmanti alla mia podagra, non una terapia definitiva, mi accontento di sentire diradarsi gli attacchi e attenuarsi le fitte. Beh, questa è la saggezza. Certamente, quindi non avere la pretesa, diciamo, di avere una tale distanza che consente una forma di atarassia, cioè di completo distacco, totale. Che è inumano. Che è inumana, naturalmente, ma tendere a, insomma. E cioè camminare sulla strada della vita nel modo giusto, e cioè con equilibrio. Diciamo che per l'uomo di oggi non è facile. Ecco, perché non è facile, professore, per l'uomo di oggi? Perché è travolto dagli eventi e soprattutto, appunto, non ha più, diciamo, quella capacità di concentrarsi su se stesso. Ma direi che c'è un altro fatto, e cioè la vita di oggi ci ha inondato di beni esterni, di cose. E tutte le scienze e le tecniche di cui siamo circondati ci riempiono di cose e ci fanno dimenticare di pensare a noi stessi. Chi sei tu? Allora noi siamo diventati bravissimi a produrre cose e molto modesti nel ripensare io. Chi sono? Certo, che è una domanda che dovremmo porci ogni volta, diciamo, non voglio dire ogni giorno, ma quasi ogni giorno, se fossimo davvero saggi. E' una cosa poco nota, ma il nostro grande Seneca faceva questo. E cioè ha introdotto come regola l'esame di coscienza ogni sera. Spegneva quando andavo a letto, veniva la luce e si domandava che cosa ho fatto io oggi. Questo non andava bene, non lo dovrei più fare. Come ho trattato questo tizio? L'ho trattato troppo male e così via. E cioè, alla fine, un bilancio. Quello che ho fatto. E in quello che ho fatto, che cosa ho fatto male? Che cosa invece devo fare per farlo bene? O comunque per non farlo così male? E cioè meglio. E quindi ogni sera, chi sono? Cosa ho fatto? Perché l'ho fatto? Certamente, questa è una regola che dovremmo assumere tutti, naturalmente. Dunque, il professor Reale di Seneca, se detto, i detrattori di Seneca, lo hanno definito un filosofo che predicava bene, ma arrazzolava male. Ecco, vuole sintetizzare che cosa significa questo che io naturalmente ho definito così? Beh, direi che sì, ha detto bene, cioè sono di detrattori. Io risponderei con una risposta che ha dato ad un lettore che gli ha fatto questa domanda, Indro Montanelli, il quale era un amante grandissimo di Seneca. Seneca, anzi, ha detto addirittura che è stato il vero suo maestro. Ha risposto questo. Quando si dice di queste cadute, eccetera, eccetera, non si dice quest'altra cosa molto importante, che l'ha riconosciuto. Non lo voglio più fare. E aggiunge addirittura, sa che è graffiante Montanelli, ma nel suo grafico è l'unghia del leone, no? Che se avesse detto di essere stato sempre coerente, eccetera, 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 non gli avrebbe creduto. Lui gli credeva proprio per questo. Allora è grande non solo chi non cade, ma se uno cade subito dire sono caduto, non voglio più cadere, perché sono caduto. Questo è il punto fondamentale. Certamente, quindi guardare a se stessi e soprattutto valutare se stessi nel modo giusto. Certo, quindi grande importanza anche la ragione. Certo, e direi che in fondo questa è una coerenza umana, perché l'uomo non è un masso, cioè qualcosa di solido, consolidato per sempre, ma è dinamico. E quindi in questo suo svolgimento dinamico ci sono alti e bassi per definizione. E quindi capisco benissimo che Montanelli dicesse, se non ci fossero, non gli crederei. Dunque, Seneca fu il maestro di Nerone. Ecco, lo influenzò a tal punto che la prima parte del regno di Nerone fu positiva. Anzi, lui ebbe, diciamo, sicuramente un riscontro da parte dei popoli e anche del popolo di Roma e anche un riscontro dai suoi più vicini. Era però molto soggiogato dalla madre, che è una figura piuttosto negativa. Ecco, come si sposta Seneca in questo mondo, in fondo della materia, in questo mondo del caos? Perché chiaramente è il caos. Allora, finché ha avuto una certa risposta, diciamo, di moderazione dei tuoi istinti, ha lavorato bene con Seneca. E con Nerone. Con Nerone, scusi. E a poco a poco poi si è allontanato, fino a staccarsi completamente. E ricordiamo questo, che poi è stato condannato a morte da Nerone, con la più terribile morte. Tu ti suiciderai. E non solo, siccome la moglie voleva suicidarsi anche lei, la proibizione che anche la moglie si suicidasse. Perché il popolo lo avrebbe biasimato per questo. E proprio nel momento della morte si vede quello che è la grandezza dell'uomo, insomma. È riuscito a tollerarla in una maniera veramente straordinaria. E qui, anzi, ha messo in atto il suo principio, che è un principio magnifico. Ti possono ferire in vari modi, ma se vuoi non colpire. Cosa vuol dire questo? Ti può capitare di tutto, ma questo tutto che ti capita dipende da te. Come valutarlo? Accettarlo o rispingerlo? E quindi con tutte le conseguenze che questo... E qui è stato capace di... Quindi la parte finale della sua vita, e come finita in maniera tragica, dimostra la grandezza dell'uomo. La coerenza. Ecco, stoica. Allora...